Può una storia classica di Dylan Dogg pubblicata nel 2022 accontentare tutti? Sì, può. Sì, può, fare! Può se è stata scritta e disegnata molto bene. Può se è fatta con una qualità molto alta. Dylan Dogg numero 429, La bestia della brughiera, di Luigi Mignacco con i disegni di Corrado Roy. Copertina, come sempre, di Star of Brothers, copertina suggestivissima, una copertina che a me ricorda un sacco di copertine storiche di Dylan Dogg con il mostro in lontananza, Dylan Dogg in primo piano. Una copertina che più classica non si può per una storia molto classica che addirittura prende ispirazione. dal mastino di Baskerville di Conan Doyle con Sherlock Holmes per appunto rimescolarla, rivisitarla in chiave dilaniata per regalarci una storia che comunque ha sempre un sottotesto tipicamente dilaniato. Andiamo a vedere adesso cosa intendo. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video, anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che vivono in brughiera e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero e di questo video. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch. Se in questi giorni sono un po' assente su Twitch è perché non ce voglia fondamentalmente, ma torneranno, torneranno le live, torneranno in pompa magna e poi tornerà il gameplay. Sto aspettando con ansia un paio di videogiochi per portare un gameplay. Non temete, non temete. Come sapete, io di solito non amo le storie in cui Dylan è già immerso nell'azione. Mi piacciono le storie con un intreccio basico in cui un cliente, una cliente, viene a suonare alla porta di Dylan Dog e Dylan Dog prende un caso e va a eseguirlo. Questo numero, nonostante, fa eccezione perché anche se la storia si apre già nel mezzo dell'azione con un Dylan smemorato che appunto non ricorda perché lì, è comunque un Dylan che ha preso un caso e poi più o meno a metà della storia vediamo in un flashback che appunto ha avuto dei clienti, sta seguendo una traccia, sta seguendo una pista e la sta seguendo anche molto bene al punto che si è avvicinato fin troppo ed è per questo che questa storia piace anche a me perché comunque Dylan è andato a seguire qualcosa che gli è stato commissionato e non si è ritrovato in balia di non so quale fortuità. Spesso accade nelle storie di Dylan Dog che non ci sono davvero dei mostri, un po' alla Scooby-Doo, no? che c'è un sovrannaturale appena accennato ma i mostri, i veri mostri, sono quelli della società e qua invece c'è un vero e proprio mostro in un certo senso qualcosa che può ricordare un lupo mannaro un classico della mitologia horror, no? Che quasi fa sembrare questa storia dozzinale, superficiale ma in realtà non lo è perché viene esplorata molto bene questa bestia della brughiera e non mancano appunto i veri mostri della società anche in questa piccola cittadina di provincia. Non ve lo posso dire con certezza perché dovrei vedere la stessa storia disegnata da qualcun altro ma credo proprio che i disegni di Corrado Roy siano quel valore aggiunto che da un po' mancava a Dylan Dog. Per quanto io ami Dylan Dog disegnato in tutte le salse siamo anche gli esperimenti del Colorfest, lo sapete questa storia, questa narrazione, questa trama con il tocco visivo di Corrado Roy è davvero una storia di Dylan Dog perfetta perché proprio dà questo senso di oscurità questo senso di ombra che viene appunto percepito grazie a come lui gestisce appunto queste sue sfumature tipicamente di Roy che col tempo si sono fatte sempre più pittoriche. Ragazzi, ora io farò dello spoiler quindi se non lo sapevate, sapevatelo parlerò anche del finale della storia di tutto quello che c'è dietro a questa storia che comunque ti lascia un po' con un po' di suspense quindi mi piace anche questa cosa che si è portati fino alla fine a capire cosa cacchio sta succedendo in questa cittadina ecco, ve lo dirò quindi se non avete letto il numero schippate questa parte tornate dopo che l'avete letto ok? Devo ammettere che questa storia mi piace per tantissimi motivi il fatto che appunto è palese la citazione al Mastino di Baskerville con Sherlock Holmes quando c'è la parola brughiera è chiaro che si vuole andare a parare lì mi piace il fatto che appunto possa essere una banale storia di lupi mannari ma in realtà si trasforma in in un immaginario che è tipicamente dilaniato dove appunto il mostro non è semplicemente un mostro che ha una maledizione ma c'è stato un patto con un demone per allungare la vita creato da un alchimista ecco, anche queste persone che cercano la vita eterna è già il secondo alchimista che viene nominato post-meteora post-ciclo 666 non è ancora stato nominato Abraxas, Xabaras è strano io onestamente pensavo che ci fosse anche qui quando hanno detto alchimista ho pensato che ci fosse lo zampino di Xabaras però invece no l'alchimista è il dottore del paese che ha fatto questo patto con un demone e si trasforma mensilmente in una creatura che ricorda vagamente una creatura animalesca un lupo ma ricorda anche molto il demone con cui ha fatto un patto come se fosse una sorta di fusione tra un essere umano e il demone stesso ho apprezzato tantissimo il fatto che Dylan Dog non conoscesse nulla di sé nonostante la scusa l'escamotage della perdita di memoria è trito e ritrito e solitamente a me fa cadere le palle infatti appena detto non ricordo chi sono mi sono un attimino cadute le palle poi le ho raccolte e ho continuato a leggere e devo dire che ho apprezzato perché vedere che Dylan Dog nonostante non sappia chi è sia rifrattario a bere l'alcol perché sotto sotto il suo essere astemio è sotto pelle quasi la stessa cosa quando vede la carne quando vede la carne cruda non è assolutamente interessato a mangiarla essendo vegetariano da sempre ecco tutte queste sfaccettature di Dylan che vanno oltre la sua memoria razionale sono stati dei tocchi di classe appunto per chi conosce il personaggio per chi lo apprezza fino in fondo così come il fatto stesso che Dylan fondamentalmente diventi uno del paese sta lì praticamente un mese tempo necessario per far ricomparire la bestia della brughiera dato che arriva solo con la luna nuova ovviamente in questo mese gli danno una casa trovano dei documenti che però non sono i suoi ma gli danno questo nome John Smith e come si dice e lui appunto diventa parte della comunità di questa piccola comunità perché i piccoli paesi hanno vantaggi e svantaggi il vantaggio che tutti si conoscono che si crea una forte unione una forte comunità e lo svantaggio che in realtà tutti sono lì pronti a mettertela nel culo e lo vediamo subito quando Dylan Dog ha davvero bisogno e scappa dalla bestia nessuno gli apre la porta è vero lì era ancora uno sconosciuto ma fondamentalmente è una vittima sacrificale l'ultimo arrivato in paese è la vittima sacrificale della bestia del paese stesso c'è quasi una metafora per chi vive in un piccolo paesino la può comprendere chi è nuovo chi è diverso viene giudicato viene estromesso viene alienato ecco questa cosa chi vive in città penso non non possa cogliere questo aspetto di questa di questa narrazione mi piace anche come appunto in questo mese Dylan se le faccia un po' passare si faccia passare un po' di donne non è non è molto chiaro se si fa passare anche la moglie del macellaio ma non lo so sembra quasi che ci sia stato qualcosa anche con lei sicuramente c'è stato un inizio di storia con l'infermiera Viola e poi c'è stato sicuramente un rapporto carnale o più di uno comunque la storia forse più duratura è stata quella con il falegname la falegnama del paese che adesso scusate non ricordo il nome che tra l'altro a me sembrava davvero diversa così come a Dylan Dog sembrava anche a me diversa dagli altri abitanti del paese perché è l'unica che aiuta Dylan è l'unica che appunto sembra un po' fuori dagli schemi tipici anche il suo stesso ruolo un maschiaccio che fa appunto un lavoro da uomo pensavo fosse onestamente la ragazza che Dylan stesse cercando pensavo che la ragazza che Dylan stesse cercando che abbiamo visto in foto che è bionda con i capelli lunghi si fosse tagliati i capelli e dopo aver perso la memoria si fosse tagliati i capelli e fosse lei e insieme sarebbero riusciti a fuggire da questo paese invece purtroppo però devo dire anche questo è un valore aggiunto per questa storia che la rende ancora di più una storia di Dylan Dog purtroppo la ragazza che Dylan stava cercando il caso a cui Dylan stava lavorando si risolve nel peggiore dei modi la ragazza era la prima bestia della brughiera che abbiamo visto nelle prime tavole ed è stata uccisa appunto dai compaesani proprio perché c'è questo rituale in cui le persone che arrivano da fuori le fanno trasformare e poi le ammazzano per evitare appunto che si diffondano troppe bestie e infatti questa ragazza è stata una delle vittime di questo paese è un vero peccato perché ti lascia con l'amaro in bocca questa storia però il fatto stesso che una storia di Dylan Dog ti lasci con un sapore dolce amaro con una vittoria a metà la rende ancora di più una storia di Dylan Dog e forse è per questo che mi è piaciuta un po' più di quanto mi piaccia mediamente una storia classica di Dylan Dog fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia fatemi sapere se questa storia vi ha convinto voglio sapere se effettivamente qui ci sono delle opinioni contrastanti secondo me questa storia questo tipo di storia se portano avanti questo stile potrebbe davvero finalmente accontentare tutti non mi dispiacerebbe vedere un ciclo di storie anche di un anno disegnato da Corrado Roy in modo che nessuno rompe il cazzo sulla qualità dei disegni un ciclo di un anno con Corrado Roy magari con queste storie classiche che ti lasciano comunque un pochino ma senza esagerare troppo così nessuno si indiesa una cosa che accontenti tutti si può fare se si accontenta tutti per un anno poi secondo me si può usare si può anche scivolare ogni tanto e secondo me questa è la strada giusta vediamo se è solo un incidente di percorso un incidente positivo oppure se questa è la strada che prenderanno vedremo insieme io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video e basta ci vediamo ciao